Allora, questo è un messaggio per il nostro amico Filippettone, che la canzone popolare ha un nesso fortissimo con il blues e con il rock and roll. Noi pensiamo che le cose siano molto distanti tra di loro, ma in realtà non solo. Gli argomenti del blues sono gli stessi argomenti della musica popolare italiana, perché la musica popolare parla della stessa cosa di tutto il mondo. Parla del blues, parla del lavoro, parla della sofferenza del lavoro e parla, in questo caso siamo a Barbarano, nel nord del Lazio, parla della gioia e della sofferenza della pietitura, quando la pietitura si faceva piegata in due con la faccia in mano e faceva molto caldo, perché ovviamente è in quella stagione lì, e quindi c'è l'invocazione, padrò passa al bar rosso, portami, la devi, non la faccio più, insieme a questo, anche un piccolo rimpianto per le ragioni, quando tutto funzionava e se ce l'avessi a farcettare una nuova, qua, e più che, questo è qua. E quando voi lo vede, me ne voglio E quando voi lo vede, me ne voglio Ma non me la stai, mi porna e aio Mi porna e aio E quando voi lo vede, me ne voglio E quando voi lo vede, me ne voglio Di cella del sera, faccetta nuova Faccetta nuova La volta è giunta il pozzo, davvero 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 La volta è giunta il pozzo, davvero